E' stato reintegrato sul posto di lavoro Gaetano Mandala, 43 anni, tre figli e malato di sclerosi multipla, licenziato nel maggio del 2010 per aver superato nei tre anni precedenti i giorni di malattia consentiti dalla normativa. Il Tribunale di Asti ha dichiarato illegittimo il provvedimento preso dall'azienda, la DR di Villanova d'Asti e disposto il suo reintegro. Una notizia accolta con entusiasmo dalla FIOM CGL di Asti che la vede come una vittoria, entusiasmo anche da parte del lavoratore, seguito in questo lungo iter giudiziario dall'avvocato Massimo Padovani. Capitava magari ogni tre o quattro mesi che venivo chiamato dall'ospedale proprio perché avevo delle visite da fare, quindi esami del sangue, tutte quelle cose, per tenere sotto controllo la mia malattia. L'attesa per ottenere giustizia è stata lunga, dicono gli sindacati, ben 36 mesi in cui Gaetano Mandala ha contato le ore. Nel maggio del 2010 la DR aveva licenziato il dipendente per aver fatto 319 giorni di malattia negli ultimi tre anni a fronte dei 270 disponibili per legge. Con questa sentenza si è aperta una pagina di giustizia perché è un lavoratore che purtroppo per la sua volontà di ammalarsi ha una patologia grave e degenerativa come quella che ha il lavoratore in questione, insomma dovrebbe avere più sensibilità da parte dell'azienda. La tesi, sostenuta dall'avvocato di Mandala, ritiene che l'acquirsi dei sintomi della malattia deriverebbero dalla mansione svolta in azienda e non compatibile con le limitazioni imposte dal medico del lavoro. Mandala, assunto come magazziniere, oltre a guidare il muletto era chiamato a sollevare pesi. Non conosciamo ancora le ragioni e le motivazioni della sentenza, tuttavia nel corso della causa è stato dimostrato ampiamente che le mansioni del signor Mandala non erano compatibili con il suo stato di salute e con la limitazione che i medici avevano disposto nell'evitare che facesse dei sforzi fisici e dall'altro una consulenza tecnica spettata nel corso della causa ha inequivocabilmente collegato le assenze per questo di acutizzarsi dei sintomi della sclerosi multipla con le mansioni troppo gravose che gli svolgeva in azienda. I legali dell'azienda attendono ora che vengano pubblicate le motivazioni del giudice sulla sentenza e intanto annunciano il ricorso in appello. Il legame tra le mansioni svolte e l'acquirsi della malattia sono ancora dubbia, dichiarato Marina Faretra, avvocato della DR. Per il momento la sentenza del Tribunale di Asti parla di un reintegro e di un risarcimento danni pari alla retribuzione dei mesi in cui il dipendente non ha lavorato.